Cafagna cerca Russo dentro ma si impegna anche Di Piazza, c'è lo spazio per Di Piazza che va giù e calcio di rigore per il Barletta al minuto 50, Matteo Di Piazza lo spunto per andare dal dischetto in fallo di Fezza in uscita, Di Piazza messo giù, calcio di rigore per il Barletta al minuto 50 del secondo tempo Matteo Di Piazza, Matteo Di Piazza, Matteo Di Piazza, il gol del 2 a 1 del Barletta che al 98esimo trova lo spiraglio per portare a casa i tre punti contro il Santa Maria Cilento Di Piazza entra, Di Piazza conquista in rigore, Di Piazza lo trasforma e mette il timbro pesantissimo sui primi tre punti del campionato per i Biancorossi